Dal 9 al 12 ottobre si svolge in Campania EXE Flegrei 2024, l'esercitazione che testa la pianificazione nazionale sul rischio vulcanico ai campi flegrei. Oltre al Dipartimento della Protezione Civile e alla Regione Campania, partecipano alle attività in programma la Prefettura di Napoli, i sette comuni della zona rossa, le strutture operative, i centri di competenza e le regioni e province autonome gemellate. In questa occasione vengono testati i diversi piani di settore e l'invio del messaggio IT Alert. L'11 ottobre è diramato un avviso sui cellulari di coloro che si trovano in Regione Campania che, in caso di reale allarme, segnalerebbe l'inizio dell'allontanamento della popolazione dalla zona rossa. Sabato 12 ottobre i cittadini che lo desiderano partecipano al test di allontanamento dalla zona rossa, seguendo le indicazioni dei propri comuni. Partecipa per essere pronto.